Un saluto a tutti dal canale video di Mite Dolcino. Io sono Simone Mariam. Condurrà l'intervista con me anche Kathleen. Oggi abbiamo un ospite molto speciale, David Icke, che è un ex calciatore professionista inglese e commentatore sportivo. È un autore acclamato e ha scritto più di 20 libri. Con i suoi discorsi pubblici in oltre 50 paesi, David ha attirato un seguito globale e le sue credenziali lo rendono uno dei pensatori più influenti oggi. Hello David and welcome to our program. It's a real pleasure to have you here with us today. How are you? I'm as what could be expected, I guess, like everybody else, but thanks for asking me. Thank you very much. Thank you.